Sostenere gli enti del terzo settore nella realizzazione di progetti finalizzati a valorizzare i giovani, prevedendo percorsi di crescita e qualificazione di giovani già inseriti nelle organizzazioni oppure progetti finalizzati al coinvolgimento delle nuove generazioni esterne al mondo associativo. Questo è l'obiettivo del Bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana GiovaniSì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale con il contributo delle 11 fondazioni bancarie della Regione Toscana. Rivolto agli enti del terzo settore, il Bando andrà a finanziare 86 progetti per un importo complessivo di circa 500 mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il primo marzo. Un Bando di 500 mila euro per consentire attività che possano vitalizzare le nostre comunità per la Toscana attraverso associazioni e realtà giovanili. I giovani della nostra Regione sanno che GiovaniSì è un punto di riferimento, sanno che andando sul nostro portale GiovaniSì.it trovano tutte le opportunità che vanno dal lavoro alla casa, alla formazione, allo studio e dà anche la possibilità da oggi di avere delle risorse economiche importanti da investire in progetti di comunità, progetti fatti da giovani e che possano concretizzare i sogni e le aspirazioni della nuova generazione. Ai 240 mila euro messi dalla Regione Toscana si sono aggiunti 250 mila euro delle singole fondazioni che vanno chiaramente a sostenere i progetti nei loro territori. Quindi è una grande opportunità, un grande successo. Siamo contenti di poterlo presentare qui in Regione Toscana col Presidente Gianni.